Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo l'ultimo numero del lobby della scienza era tecnica, il numero 55. Scienza, modellismo, mineralogia, microscopia e elettronica. Tanti articoli, tante notizie per i vostri lobby e per le vostre passioni. Ecco un piccolo riassunto di quello che troverete in questo numero. C'era una volta la slide, un ricordo su Viverone, elementi cronologici della trigonometria, John Harrison, la storia della longitudine, meteoritica per tutti, quando a calcio giocano i robot, pirografia, notizie ed eventi. La rivista può essere acquistata per abbonamento, in edicola e anche nella versione online. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.